Buongiorno ai telespettatori dal CETEMS. L'asta pressione che ci ha accompagnato negli ultimi giorni inizia a ritirarsi verso sud-est, sotto l'azione di un flusso perturbato di origine nord-atlantica che già sta interessando i settentrioni dell'Italia. Sull'Abruzzo oggi il tempo si manterrà ancora asciutto, ma già dalla mattina sarà presente una nuvolosità alta e stratificata che diventerà via via più compatta durante il pomeriggio, a partire dei settori occidentali della regione. I venti soffriranno da quadranti meridionali che saranno inizialmente deboli o moderati nel rinforzo del corso della giornata. I mari saranno generalmente mossi. Le temperature, grazie alla ventilazione meridionale, subiranno un rialzo nei valori minimi e massimi, con punte di oltre 25 gradi nell'entroterra adriatico. Domani avremo cieli coperti, con piogge diffuse, anche intense sulle aree interne e temperature in diminuzione. Venerdì il tempo sarà ancora perturbato e le temperature si abbasseranno ulteriormente. Con questo per oggi è tutto, buona giornata e linea allo studio.